Salve a tutti e ben trovati. Sono Alessandro Locarini, Tableau and AlterX Consultant per The Information Lab Italia e in questo video vi mostrerò come sia possibile creare, utilizzando Tableau Online, una piattaforma di business intelligence in maniera rapida ed intuitiva. Grazie alle potenzialità di Tableau vedremo come sia semplice analizzare i dati al fine di ricavare insights utili al nostro business. Innanzitutto, per iniziare ad utilizzare il prodotto ci servirà una licenza Tableau Online che è possibile acquistare da aziende partner come ad esempio The Information Lab. In questo caso utilizzeremo il Tableau Developer Program. Apriamo il nostro browser di ricerca e cerchiamo Tableau Developer. Tra i primi risultati, quello a cui saremo interessati è quello relativo al tavolo Developer Program. Clicchiamo. La pagina ci mostra una panoramica di presentazione sul prodotto, oltre alle varie voci per approfondire le specifiche inerenti. Facendo uno scroll down fino a fine pagina, troveremo il bottone contenente la scritta Join Developer Program Now. Clicchiamo su questo bottone. Dopo essere stati renderizzati, potremo vedere un elenco di voci. Corriamo fino a quella di Tableau Online. Questa voce, infatti, ci spiega come sia possibile provare e testare la sandbox di Tableau Online cliccando semplicemente su Here. Ora, dopo essere di nuovo stati renderizzati, clicchiamo su Get Site. A questo punto, Tableau ci mostrerà nella pagina web le condizioni e i termini di utilizzo. Nel frattempo, nel nostro indirizzo di posta, ci sarà arrivata una mail propria da Tableau Online per attivare il nostro sito. Accedendo alla nostra casella di posta, potremo aprire la mail ricevuta da Tableau Online Developer. Cliccando su Activate My Developer Site, Tableau ci indirizzerà ad una nuova pagina, in cui ci chiederà il nome del nostro sito. In questo caso, andrò a inserire Dev Site. Dopo aver accettato i termini di utilizzo, potrò attivare il mio sito. Ora che abbiamo creato e attivato il nostro site, per raggiungerlo, non dovremo fare altro che digitare il seguente indirizzo, sso.online.tableau.com Una volta raggiunto questo indirizzo, Tableau ci chiederà le credenziali di accesso per accedere. Utilizziamo le stesse che abbiamo utilizzato per creare il nostro site. Accediamo. Ora che abbiamo effettuato l'accesso al nostro site, potremo iniziare ad interagire con la nostra piattaforma di Business Intelligence. Innanzitutto, possiamo vedere come a sinistra Tableau ci dia un elenco di azioni e di opzioni che ci permettono di utilizzare la nostra piattaforma. Cliccando su Explore, ad esempio, potremo avere la visione dei progetti presenti all'interno del nostro site. Allo stato attuale avremo solo due progetti creati di default da Tableau e chiamati appunto Default e Samples. Da questa schermata, tuttavia, possiamo aggiungere uno o più progetti semplicemente cliccando sul tasto Nuovo e selezionando Progetto. A questo punto Tableau ci chiederà di inserire un nome nel nostro progetto, che in questo caso chiameremo Immatricolazioni. E volendo, potremo anche aggiungere una descrizione per dare ulteriori informazioni agli utenti che interagiranno con questo progetto. Creiamo il nostro progetto. Scorrendo con il cursore del nostro mouse su di esso possiamo vedere il proprietario del progetto e l'ultima modifica fatta su di esso. Cliccando all'interno della cartella possiamo vedere il contenuto. Attualmente non avremo nessun tipo di contenuto al suo interno, ma vedremo come sarà possibile raggiungere questo progetto e questa cartella dalla nostra versione di Tableau desktop. Una volta che siamo all'interno del progetto potremo anche creare un sottoprogetto, seguendo la stessa logica cliccando su Nuovo e cliccando di nuovo progetto. Tableau ci offre anche una visione facilitata dei nostri contenuti, come possiamo vedere nelle voci successive riferite a preferiti, recenti, suggerimenti e risorse esterne. Andando nella seconda parte invece, possiamo vedere come la prima voce presente e disponibile sia quella relativa agli utenti. Cliccando su di essi potremo vedere gli utenti presenti all'interno del nostro site. Allo stato attuale è presente soltanto la mia utenza, ovvero l'utenza del creator amministratore sito. Tuttavia, per aggiungere un nuovo utente non dobbiamo fare altro che cliccare su Aggiungi utenti. A questo punto Tableau ci darà due opzioni. La prima, relativa all'immissione di un indirizzo email, e la seconda dall'importazione da un file. Per quanto riguarda l'email, non dovremo fare altro che aggiungere l'indirizzo email, alla quale arriverà un invito ad accedere e a partecipare alla nostra piattaforma. Per quanto riguarda l'opzione Importa da file, dovremo invece inserire un file CSV che segua una sintassi predefinita che Tableau può riconoscere e automaticamente importare all'interno del nostro site. Facciamo un test cliccando su Immetti indirizzo email. Creiamo un utente ipotetico e inesistente chiamato test.it. A questo punto possiamo anche decidere il ruolo che quest'utente che andremo ad inserire avrà all'interno del nostro sito. Dal ruolo maggiore e quindi potremmo dire prioritario, quello di creator e amministratore sito, a quello più basso, ovvero quello senza licenza. Settiamo la licenza o ruolo del nostro utente su Explorer e aggiungiamolo. Tableau aggiungerà immediatamente la mail, o meglio l'utente, legato alla mail che noi abbiamo inserito e nel frattempo invierà una email all'indirizzo di posta. Continuando a scorrere le opzioni offerte da Tableau online, troviamo ad uputenti quelle relative ai gruppi. Al momento possiamo vedere che non ci sono gruppi presenti all'interno del nostro sito. Per aggiungere un gruppo non dobbiamo fare altro che cliccare su Aggiungi gruppo, dove potremo inserire il nome del gruppo che vogliamo creare. Creiamo un gruppo chiamato Vendite. A questo punto però potremo creare anche un altro gruppo, in base alle nostre necessità. Ad esempio, creiamo anche un gruppo chiamato Management. Ora che abbiamo creato i nostri due gruppi, possiamo cliccare per accedere ad essi, ed aggiungere a questo punto gli utenti che vogliamo, vadano a far parte del gruppo creato. Una volta effettuato l'accesso al nostro gruppo, potremo cliccare su Aggiungi utenti e vedere gli utenti al momento presenti sul nostro site, che possiamo aggiungere semplicemente spuntando la casella al loro fianco. Così abbiamo aggiunto due utenti al gruppo Management. Possiamo però aggiungere un utente a più di un gruppo, quindi non è una relazione univoca. Aggiungendo infatti lo stesso utente anche a gruppo Vendite, riusciremo anche a creare una specie di gerarchia aziendale che in futuro potrà gestire i nostri permessi agli accessi ai contenuti presenti sul site. Per fare quest'operazione possiamo anche andare su Utenti, cliccare sui tre punti di sospensione a lato del nostro utente e cliccare su Appartenenze ai gruppi. In questo modo potremo modificare i rapporti tra l'utente e il gruppo creato, ad esempio in questo caso togliendo l'utente, Alessandro Luccarini, dal gruppo Management. Lo stato del sito non fa altro che darci la possibilità di avere a disposizione delle dashboard create automaticamente da Tableau che ci permettono di monitorare tutti i vari elementi relativi al nostro Tableau Online, che sia il traffico, che siano le azioni o che sia anche lo stato per l'uso dello spazio. L'ultima voce nel nostro elenco di operazioni all'interno di Tableau Online riguarda le impostazioni. Da questa interfaccia sarà possibile gestire tutte le impostazioni, siano esse di tipo generale come la notifica di invito al sito, il logo del sito o la pagina iniziale, ecc. Per quanto riguarda l'autenticazione, dove potremo settare i tipi di autenticazione, il metodo di autenticazione predefinito e la gestione degli utenti, eventuali connessioni a Tableau Bridge ed infine eventuali estensioni alle dashboard. Tornando alla home e cliccando in alto a destra sulle nostre impostazioni account, sarà invece possibile andare a definire le impostazioni che riguardano il nostro account personale. Da questa schermata infatti potremo modificare la nostra password, gestire le eventuali credenziali salvate per le origini di dati, ma anche modificare la lingua del nostro site, in base alla nostra preferenza. Dalla stessa schermata sarà anche possibile gestire sottoscrizioni, avvisi e contenuti presenti nel nostro site. Tornando al nostro progetto, possiamo vedere come cliccando sui tre puntini in sospensione a lato del nostro progetto, sia possibile gestire le autorizzazioni inerenti ad esso. Da questa finestra infatti, possiamo cliccare su aggiungi regola gruppo utente e cercare o un singolo utente, come ad esempio l'utente test, ma anche un singolo gruppo, come ad esempio il gruppo management, e selezionando un gruppo utente andare a decidere che tipo di accesso e autorizzazione vogliamo stabilire per il nostro gruppo selezionato. In questo caso possiamo selezionare o il tipo di modello, ma possiamo anche andare a selezionare singolarmente la possibilità di vista o pubblicazione e automaticamente Tableau ridefinire il modello per noi, sia da un punto di vista del progetto, sia da un punto di vista delle cartelle di lavoro, quindi anche qui potendo settare o il modello andando a cliccare singolarmente le azioni a cui vogliamo abilitare il gruppo selezionato, ma non solo riguardo progetto e cartelle di lavoro, bensì anche su origini dei dati, ruoli dei dati, eventuali flussi e metriche. Quindi in questo modo possiamo avere il pieno controllo e la tutta la gestione sia dei gruppi sia degli utenti singolarmente. Ora che abbiamo fatto una breve panoramica relativa alla nostra piattaforma, apriamo Tableau Desktop al fine di creare una nuova dashboard e pubblicarla all'interno del nostro progetto immatricolazione. Apriamo Tableau Testo. Nel mio caso utilizzerò la versione 2020.1.2. Dalla pagina di connessione alla base dato vediamo come Tableau ci dia la possibilità di scegliere tra una moltitudine di connessioni. Sia esso un Tableau Server, siano essi dei file del tipo Microsoft Excel, file di testo fino a file spaziali statistici, o siano essi dei server. Cliccando su Altro possiamo vedere la lista completa dei tutti i server alla quale è possibile connettersi tramite Tableau. Vediamo perciò gli Amazon Server, i Google Server, gli IBM Server, MySQL, PostgreSQL, Salesforce, eccetera. Nel nostro caso la nostra base di dato sarà un semplice file Excel. Questo file Excel contiene i file relativi alle immatricolazioni del mese di marzo per quanto riguarda 2019 e 2020. Una volta selezionato il file possiamo vedere come Tableau ci mostri il contenuto del nostro file Excel, ovvero i nostri fogli di lavoro, e ci permetterà di scegliere il nostro file di competenza e di cliccare due volte su di esso per aprirlo nella sua interfaccia. Da questa interfaccia potremo modificare il formato dei dati delle colonne, ma potremo fare anche operazioni come la rinomina, il copiare valori, creare degli alias o eventuali split o divisioni. A questo punto, dopo aver analizzato i nostri dati, andiamo a sistemare eventuali errori di tipologia dato. In questo caso, infatti, vediamo come il nostro anno venga riconosciuto come string. Trasformiamolo in una data. Non avendo il dettaglio di giorno e mese, Tableau rapporterà tutto al primo gennaio dei due anni presi in considerazione. Per quanto riguarda le immatricolazioni, sappiamo che questo numero è un numero intero e non un decimale, perciò lo modifichiamo. La nostra variabile marca rimarrà una stringa in quanto è correttamente impostato. Per quanto riguarda invece le nostre due variabili geografiche che sono provincia e regione, non andremo a modificare il formato che rimarrà una stringa, ma andremo a definire un ruolo geografico. In questo caso, la nostra provincia sarà la nostra provincia. e la nostra regione sarà la nostra stato regione. A questo punto i nostri dati sono pronti per essere utilizzati. Consideriamo che è la colonna che contiene le sigle, che non ci serve, perciò la nascondiamo. Clicchiamo ora sul nostro foglio di lavoro e creiamo la nostra prima visualizzazione. Considereremo infatti l'anno e il numero di immatricolazioni. Facendo un doppio clic su anno e un doppio clic su immatricolazioni, Tableau creerà una tabella che contiene al suo interno il numero di immatricolazioni per il mese di marzo del 2019 e del 2020. Modifichiamo la distribuzione all'interno del nostro canvas e andiamo a impostare il formato corretto per quanto riguarda l'allineamento delle intestazioni e il contenuto all'interno delle nostre cellule. A questo punto abbiamo una tabella che ci fa il confronto tra il numero assoluto tra marzo 2019 e marzo 2020. Andiamo ad aggiungere però un altro dettaglio all'interno di questa tabella. Selezioniamo le nostre immatricolazioni e portiamolo in dettaglio. Clicchiamo sulla freccia relativa alla nostra measure misura che abbiamo appena portato all'interno degli indicatori e andiamo a selezionare calcolo rapido tabella. Scegliamo di cliccare su differenza percentuale. Trasciniamo la nostra misura all'interno della nostra tabella. Tableau automaticamente creerà due righe. Una con il numero assoluto di immatricolazioni e una che si riferisce alla differenza percentuale tra 2020 e 2019. Dal pannello dei valori misure possiamo ordinare le nostre misure e a questo punto possiamo rinominare il nostro grafico semplicemente facendo un doppio clic su foglio 1 e rinominare. Così con pochi e semplici clic abbiamo creato il nostro primo cruscotto. Creiamo ora una seconda visualizzazione. Consideriamo adesso la marca e le immatricolazioni. Come in precedenza faremo un doppio clic su marca e un doppio clic su immatricolazioni. Di nuovo Tableau ci mostrerà in formato tabella tutti i dati relativi alle marche delle automobili e il numero di immatricolazioni. Tuttavia cerchiamo non tanto di utilizzare una tabella bensì un grafico. Per trasformare l'attuale tabella in un grafico selezioneremo la nostra misura e immatricolazioni e la porteremo in colonne. Tableau trasformerà la tabella in un grafico a barre. Cliccando sul tasto dell'ordinamento decrescente possiamo ordinare i nostri valori avere un ranking che ci permette non solo di capire quali sono le marche che hanno venduto di più ma qual è anche il rapporto in termine numerico tra le stesse. Selezioniamo di nuovo immatricolazioni e portiamolo sull'etichetta così da avere non solo il rapporto tra le barre ma anche il numero stampato relativo ad ogni marca. Possiamo però anche selezionare le stesse immatricolazioni e portarle in colore per far sì che il nostro grafico assuma un gradiente di colore che ci permette di avere visivamente un'idea chiara di come sta andando l'andamento dell'immatricolazione. Questo colore può essere modificato in questo caso scegliamo un gradiente di grigio e nascondiamo la nostra leggenda. In questo modo potremo vedere non solo la marca e il numero ma anche un gradiente di colore che va a sfumare dal più alto al più piccolo. Rinominiamo anche questo grafico e andiamo a creare il terzo grafico della nostra dashboard. Dopo aver analizzato l'anno e la marca considereremo la provincia di residenza. Facendo un doppio clic su provincia il tablo in base al ruolo geografico che abbiamo settato in precedenza rapporterà le nostre province all'interno della nostra penisola. Allo stato attuale però ci sono ben tre province che risultano come sconosciute. Clicchiamo su questo indicatore e cliccando su modifica posizioni possiamo cercare di capire qual è il problema. In questo caso ci rendiamo conto che è un semplice problema di naming convention perciò cliccheremo sulla cella in cui c'è scritto non riconosciuto inizieremo a digitare e tablo ci suggerirà immediatamente il valore corretto per quanto riguarda le province e andremo a sostituire i nomi che non permettevano alla nostra mappa di essere ben visualizzata. Ora cambiamo l'indicatore da automatico a mappa e facciamo un doppio clic su immatricolazioni. In questo modo in base al dettaglio delle province che abbiamo all'interno della visualizzazione tablo prenderà la nostra misura per colorare le singole province dalla provincia con il maggior numero di immatricolazioni a quella che ne ha mini. anche in questo caso possiamo modificare il colore scegliamo ad esempio un gradiente che va dall'arancio al blu oppure scegliamo un arancio oro in questo modo potremo vedere come la tonalità più scura dell'arancione si riferisca alla provincia che ha venduto che ha avuto più immatricolazioni viceversa il gradiente che tende più all'oro e quello che ne ha vendute meno. Anche in questo caso possiamo innanzitutto rinominare il nostro grafico ora possiamo renderci conto come tra le dimensioni che abbiamo nella nostra base dato la dimensione regione non sia stata utilizzata possiamo utilizzarla facendo un clic con il tasto destro del mouse e selezionando mostra filtro in questo modo Tableau utilizzerà la nostra variabile regione come filtro alla nostra mappa modifichiamo il formato del filtro ad esempio scegliendo un elenco a discesa in questo modo potremo decidere se considerare tutte le regioni insieme o filtrarne soltanto uno. Andando sul pannello dei filtri possiamo anche dire a Tableau di considerare questo filtro e applicarlo non solo a questo foglio di lavoro bensì a tutti quelli che usano queste origine dati nel nostro caso il nostro file Excel. Selezioniamo questa opzione. in questo modo il nostro filtro regione andrà ad applicarsi a tutti e tre i grafici che abbiamo creato. Ora creiamo una dashboard cliccando infatti su nuova dashboard potremo innanzitutto mostrare il titolo della dashboard e dare un titolo chiaro al nostro lavoro così che la persona che aprirà il nostro workbook saprà benissimo di cosa sta parlando poi possiamo cambiare la dimensione dello schermo nella quale viene mostrata la nostra dashboard scegliendo automatico e ora possiamo portare al suo interno i nostri tre grafici la nostra tabella il nostro grafico a barre e la nostra mappa nascondiamo la leggenda vediamo come in automatico Tableau ha portato al suo interno anche il filtro a questo punto possiamo modificare lo spazio assegnato ad ogni singola ad ogni singolo grafico e possiamo avere una prima idea della nostra dashboard ciò che manca però al momento è l'interazione tra le nostre tre dashboard infatti se abbiamo un unico filtro in questo caso che ci permette di filtrare tutte e tre tutti e tre i nostri grafici ciò che manca è un'interazione tra di essi per attivare queste interazioni selezioneremo un singolo grafico e cliccheremo sull'icona usa come filtro questo permetterà di attivare un filtro ogni volta che clicchiamo su un singolo elemento del grafico cliccando su 2020 infatti vediamo come i grafici vengono filtrati in base alla nostra selezione possiamo farlo sia per quanto riguarda gli anni sia per quanto riguarda le marche sia per quanto riguarda la provincia quindi abbiamo sia un filtro che opererà sulla regione sia un filtro che opererà sulla provincia sfruttando le nuove potenzialità di Tableau possiamo anche attivare le animazioni e vedere come al clic su una provincia il nostro grafico a barre venga filtrato in base dell'animazione a questo punto possiamo sistemare il formato della nostra dashboard modificando titoli oppure semplicemente andando a inserire dei bordi per renderla più chiara e comprensibile possiamo anche aggiungere eventuali sfondi modifichiamo modifichiamo anche il nostro filtro per renderlo leggibile al 100% come vedete tutto è customizzabile in pochi semplici click a questo punto avremo la nostra dashboard quasi pronta per essere pubblicata modifichiamo anche l'alias della colonna che è stata automaticamente creata da Tableau ed ora potremo pubblicare questa dashboard sul nostro progetto in matricolazione che abbiamo creato sul nostro Tableau online effettuiamo l'accesso clicchiamo su server su accedi e selezioniamo Tableau online Tableau ci chiederà le nostre credenziali di accesso e ci permetterà di connetterci a Tableau online a questo punto cliccando di nuovo su server potremo decidere se pubblicare la nostra origini dati oppure la nostra cartella di lavoro clicchiamo su pubblica cartella di lavoro Tableau ci permetterà di decidere in che progetto pubblicare la nostra cartella di lavoro che nome dare aggiungere aggiungere un'eventuale descrizione decidere se pubblicare tutti i fogli o soltanto la nostra dashboard gestire le autorizzazioni cliccando su modifica e gestire e gestire anche l'origine dati in questo caso andremo a scegliere cartella di lavoro incorporata pubblichiamo la nostra cartella di lavoro Tableau aprirà in automatico una pagina web dandoci immediatamente accesso al nostro progetto in matricolazione potremo quindi a questo punto cliccare sulla nostra cartella di lavoro appena pubblicata Tableau ci darà una lista di operazioni da poter effettuare tra cui la modifica tramite pagina web in cui potremo cambiare la nostra cartella di lavoro come se fossimo su un'istanza di Tableau Desktop ma ci permetterà anche di sottoscrivere questa dashboard inserendo gli utenti ci permetterà di creare eventuali avvisi ci darà la possibilità di condividere e scaricare il contenuto ma anche di aggiungere commenti menzionando uno degli utenti in questo caso sarà possibile inviare una notifica all'utente menzionato tornando al nostro progetto di matricolazioni vedremo come sarà anche possibile semplicemente accedere alla dashboard e navigarla andando a cliccare i filtri che abbiamo selezionato e abbiamo creato su Tableau Desktop Ciò che faremo ora sarà creare una versione accessibile anche da dispositivo mobile sfruttando direttamente la nostra cartella di lavoro creata su Tableau Desktop clicchiamo clicchiamo su telefono e vediamo come Tableau automaticamente andrà a creare un nuovo layout visualizzabile tramite cellulare è già pronto all'utilizzo tuttavia cliccando sul lucchetto bloccheremo la possibilità di modificare e riadattare a nostro piacimento la nostra dashboard aumentandone ad esempio l'altezza ma anche modificando e riadattando la grandezza dei titoli così come nascondendo eventuali intestazioni non utili alla nostra visualizzazione e distribuendo in maniera ottimale i nostri grafici sposteremo anche il nostro filtro in alto così da creare una logica nell'interazione per l'utente mantenendo ovviamente tutti i filtri creati e applicati in precedenza sia per quanto riguarda il singolo clic su tutti i nostri grafici sia per quanto riguarda il menu a tendina a questo punto potremo pubblicare di nuovo la nostra cartella di lavoro sovrascrivendo la precedente in questo modo la nostra dashboard sarà anche visualizzabile attraverso l'applicazione Tableau disponibile sia per iOS che per Android aprendo la nostra applicazione Tableau mobile dal nostro cellulare potremo connetterci a Tableau online inserendo ovviamente le nostre credenziali e la nostra password cliccando su esplora potremo selezionare il nostro progetto immatricolazioni e selezionare la cartella di lavoro creata in precedenza proprio per essere visualizzata nel nostro dispositivo mobile a questo punto vedremo come sia possibile navigare all'interno della dashboard e applicare i filtri che abbiamo impostato grazie per aver seguito questo video Grazie a tutti